è una canzone di san michele è un canto di devozionale di san michele di castellino e chi te l'ha imparata? mio nonno tuo nonno si chiamava? come si chiamava? pietro lo sai tu? nonno pietro nonno pietro fulgenzia 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 dimmi a che farò? ma nonno sai perché io non l'obbligo? perché degraerebbe tutto lui ha la sua ispirazione la tiene per andare come devozione al santo lui beve e non poco abbiamo questo viso questa attitudine questo è un'attitudine ma lui al di là del fatto se beve se abbiamo visio invece del visio sia una virtù questo lo lasciamo riposte di come ardua sentenza il fatto è eclatante no già ne ha scuota non ne ha scuota ma poi c'è una casa perciò che se tu la canti adesso e non c'è quel racconto no la svinuisci no perdonami che non essendoci un racconto spirituale è come se tu cominci il rosario all'interno della discoteca sono d'accordo con te